I miei interventi sull'imperialismo economico sono nell'insegnamento sociale della Chiesa, non ho mai detto una cosa in più che non fosse nella dottrina sociale della Chiesa. Sul volo che l'ho portato da Santiago de Cuba a Washington, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti sull'enciclica Laudato Si e sui suoi più recenti interventi sui temi sociali ed economici, Papa Francesco ha ribadito che non bisogna chiedersi se la Chiesa lo seguirà, ma che è lui a seguire la Chiesa e la sua dottrina sociale. Qualcuno, gli ha riferito un giornalista, negli Stati Uniti si è chiesto se il Papa è davvero cattolico, se è necessario che io reciti il credo, ha risposto il Papa sorridendo, sono disposto a farlo. Della sua visita a Cuba, Francesco ha detto che è stata molto pastorale, con molti incontri con la comunità cattolica, alcuni davvero calorosi come l'ultimo con le famiglie, ma le cose da correggere le ha dette non profumandole, facendo sempre riferimento alla dottrina sociale della Chiesa. La Chiesa continuerà a chiedere l'indulto per i detenuti politici, ma lui a Cuba non ha ricevuto in udienza nessun dissidente. Infine, sull'embargo commerciale degli Stati Uniti contro Cuba, il Papa ha detto che la posizione della Santa Sede è chiara, i suoi predecessori ne hanno parlato, ma lui non ne parlerà al congresso statunitense, dove si riferirà invece agli accordi multinazionali come segno del miglioramento della convivenza tra i popoli.